professore tiriamo le somme le somme di questi due giorni due giorni molto intenso due giorni di festa qui a piano due giorni di grande fatica per la preparazione la soddisfazione che è venuta tanta 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 gente veramente ad apprezzare questo avvenimento che non è piano la mella città dell'aquila la cittadina perché tutto composto su 99 e 9 99 metri di frittata con l'ortica 999 uova 999 metri la pista per rotoballe corda la fune per la gara tiro alla fune con due bruciutti che salgono e scendono 99 metri di fune e 9 metri di altezza tutte cose uniche al mondo mai nessuno fa sto facendo adesso al tiro la pizza di formaggio c'è tanta di quella gente qui di cose che gareggia e su ogni gara il vengitore c'è un bruciutto di premio hanno mangiato tanto di quella frittata con l'ortica è una cosa pazzesca perché non parliamo di torchetta eccetera devo dire grazie a tutta la popolazione di pianola chi è partecipato e chi non ha partecipato grazie lo stesso io ringrazio ringrazio sempre tutti grazie poi a quelli che sono qui e grazie veramente ai collaboratori perché qui non esiste io non sono né presidente né signora che sono quello che finanzia purtroppo le cose e organizzano però non ho una carica non è un'associazione le cose è piano la piano la piano il che vuol dire che piano partecipa l'organizzazione del circolo anziani gli alpini il coro un po tutti quanti tutti sono ben accerti chi viene come dice il vangelo venite nella mia viglia accettiamo tutti quanti accettiamo gente che lavora gente che non lavora si sta bene è fatto per fare festa per dare un lusso a pianola che veramente merita ma merita in modo particolare per la per la città dell'aquila perché sono orgoglioso di essere cittadino a pilano anche se pianotese perché per me l'aquila 99 è giro per il mondo e questa cosa e tutte queste gare che abbiamo fatto roto balloni adesso non li sto allegando tutti quanti sono uniche al mondo nessuno ha fatto mai una frettata con l'ortica nessuno ha fatto il tiro alla fune in questo modo nessuno ha fatto la gara dei balloni nessuno ha fatto il tiro delle bocce in questo momento tutte gare uniche al mondo appuntamento l'anno prossimo e speriamo di sì se mi danno la mano perché qua insomma serve l'aiuto aiuto economico ormai non arriva piano l'aiuto economico non si vede quindi spero solo delle forze che possiamo fare che auguriamo perché per me pianola e pianola la festa è questa cioè la popolazione per me sono tutti amici tutti sinceri chiunque questo sia parlatene bene o male l'interessante che se ne parla guai non parlarne mi dispiace per quelli che non dicono niente io preferisco quelle persone che dicono hai sbagliato così oppure hai dognato così tutti i modi quello che bene o male parlatene sempre un ringraziamento lo devo fare all'operatore all'operatore della tv anche perché pianolese pure lui ormai ha adottato le cose veramente meglio bravissima persona l'ho conosciuta in questa occasione in questi giorni l'avevo sempre visto passare però non c'eravamo mai raggiunto abbiamo fatto un ragionamento prima le cose veramente merita di essere però anche per lui sono tutte cose nuove perché vedere questi dattori a testa calda che non c'è vedere quella trebbia delle cose quindi tutte novità per i giovani e per i vecchi che rivedono qualcosa però i vecchi purtroppo siamo pochi siamo pochi che rivedono Viva! 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 Viva!